Allora ragazzi per quanto non serva che io ve lo dica però questa sarà una clip un po' più lunga per semplicemente spiegarvi che non dovete giocare al casino Quello che faccio io è una cosa completamente diversa semplicemente perché creo ovviamente utenza tramite il fatto che lo sto streamando Quindi per ovvie ragioni per me è una sottospecie di investimento Non invoglio mai nessuno a giocare, non dovete mai giocare Se volete però giocare, io non sono nessuno per dirvi se farlo o non farlo Per quanto vi possa dare solo un consiglio, giocate sempre solo i soldi che siete disposti a perdere Mai più di quelli, se avete 3 euro da spendere che avreste preso 3 birri al ciringhito ci posso stare Ma mai giocare soldi che non siete disposti a perdere e che non potete permettervi di perdere, mi raccoma